Buon giorno, femmini! Allora, faccio questo piccolo video con il telefonino per farvi salutare la Matteo che se ne va. Ciao Matteo, se ne va. Ciao Matteo, la potete salutare che se ne va. Io sono con la mascherina perché ora se la stanno salendo, la smontano e se la portano via. Ciao! Ciao! Ho fatto questo piccolo video, assolutamente per farvi salutare la Matteo che se ne va. E ho rimato un make-upaggio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!